Lo spot l'abbiamo visto perché è già on air in tv, però si tratta dell'inizio di un percorso perché ci saranno anche degli episodi successivi, tra l'altro di un cambio di marcia per Finish, in primo luogo perché c'è un testimonial la prima volta per questo brand ed è Diego Batantuono e in secondo perché strategicamente, insomma, si parla, posso osare, più simpatico, più dentro le case, meno forse solo tecnologia e più empatia? Beh sì, sicuramente questa è un po' la chiave di lettura di questa nuova ondata di spot che andrà in onda, Finish storicamente, almeno nel suo DNA, è sempre stato un prodotto tecnologico e a buona ragione perché ovviamente ha le performance dalla sua parte, però era importante riuscire ad aggiungere al discorso performance anche un discorso appunto di empatia, di calore, Insomma, Finish è comunque leader di mercato quindi nelle cucine degli italiani e allora era importante entrare nelle cucine degli italiani a lanciare questa sfida e qui direi che sta il giusto mix nel senso da una parte la performance che bisogna continuare a mantenere e la sfida è la chiave di lettura della performance perché una sfida la fa chi pensa di poterla vingere, pensa di poter avere le armi per vincerla, dall'altra parte ovviamente un ambasciatore un po' particolare, un simpatico ganassa che in qualche modo col suo modo di fare, il suo physique du rôle lanciasse questa sfida nelle case degli italiani. Spesso insomma nelle nostre chiacchierate si lamenta un po' il tema della qualità, no? Non sempre così presente. Perché secondo te ad esempio questo è un progetto che potrebbe fare da benchmark in questo senso? Beh un po' sì perché comunque questo è un progetto che nell'ambito della categoria chiamiamolo così detersivi è un progetto che racchiude tanti elementi di qualità dalla strategicità del progetto, comunque alla qualità di un testimonial messo di fianco a un prodotto non così come dire abituale, alla confezione del progetto, alle risorse messe insieme e alla durata nel tempo. Quindi qui non parliamo di un progetto come spesso si usa oggi, usa e getta, è un progetto che parte adesso, che durerà nel tempo e che sia l'agenzia che il cliente ci hanno chiesto di fare nella maniera più qualitativa possibile, ovviamente sempre nell'ambito di un rispetto di costi sostenibili, ma a me pare che sia un buonissimo esempio di ricerca della qualità. L'obiettivo insomma, a meno quello che si percepisce guardando questo film, è rendere questo brand più caldo, dal freddo che forse poteva essere prima rispetto anche ovviamente a quello che è il panorama della comunicazione dei competitor. È stato difficile convincere l'azienda? Beh, noi abbiamo subito pensato all'utilizzo di un testimonial, come ci è arrivato il brief e questa sfida nostra interna, abbiamo subito pensato che appunto l'utilizzo di un personaggio potesse essere un amplificatore è anche un po' una via ideale per fare questo. Abbiamo fatto ovviamente una lista di testimonial, ovvio primo della lista è stato proprio Diego Abattantuono, perché secondo noi per fisico, per ruolo, per simpatia e per credibilità ovviamente era secondo noi proprio il numero uno. Devo dire che ce l'abbiamo fatta al primo colpo, nel senso che sin dalla prima presentazione il cliente ha subito colto l'importanza e apprezzato la scelta di Diego Abattantuono. Poi da lì ovviamente c'è stata tutta una serie di lavori per capire la fattibilità, eccetera, eccetera. Però direi che subito il cliente ci ha dato ragione, ecco, fidandosi di questa scelta. Ci puoi anticipare, non so, le storie dei prossimi film? So che tra l'altro è una pianificazione che proseguirà anche per il 2014. Sì, sai che come sempre queste cose è difficilissimo anticiparle, spesso e volentieri non siamo autorizzati a farlo. Ma io ti posso dire che è una storia che si racconta attraverso diversi episodi. Qualcuno l'abbiamo girato a Roma nei giorni scorsi, qualcun altro dovrebbe essere poi messo in cantiere in futuro. Sicuramente mi pare un progetto molto ben strutturato, molto ben pensato e che ha tutti i suoi step già prefissati. A me pare che Diego supporti benissimo questo tipo di scelta. Io devo dirti che sul set, per esempio, l'ho visto in pochi secondi prendersi la scena ed essere assolutamente dirompente e convincente. Io ho girato con tantissimi testimonial e nei 30 secondi moltissimi fanno fatica a stare perché non hanno la capacità della battuta veloce e poi lui ha questa imponenza fisica particolare. Per cui a me pare che anche questo porti a una grande immediatezza, spero, nell'impatto che questa campagna avrà. Ma poi se riusciremo a svilupparla così come è stata concepita, credo che costituirà un fatto differenziante in questa categoria di prodotti. Avvocato, faccio l'avvocato un po' del diavolo, no? Nel senso che si dice che spesso quando non ci sono idee creative o non si possono realizzare, l'escamotage è quello di metterci una canzone, un testimonial. Ovviamente non sarai d'accordo, ma perché? No, perché di solito c'è sempre la doppia scuola di pensiero, no? Il testimonial come via di fuga e scorciatoia, o il testimonial invece che è messo non ob torto collo, ma in modo convincente. Ovviamente noi siamo per la seconda scuola di pensiero, per la seconda strada. Oggettivamente avremmo potuto pensare alle storie che abbiamo pensato, anche forse con un signor nessuno, non avrebbero avuto la stessa forza, ma io credo che l'obiettivo finale sia proprio quello di dare forza al brand, che è un brand premium e quindi un testimonial, io oserei dire premium, come Diego Batantuono, non è stata per nulla una scelta di ripiego, ma è stato proprio un concetto strategico. L'italianità, l'originalità, il calore, la simpatia. Ecco, tutto questo Diego in qualche modo lo ha dato, lo ha dato anche usando una normalissima tab di detersivo, che però ha tutta una sua storia dietro e che di conseguenza merita essere raccontata e comunicata in un certo modo. Chiuderei con altre due parole sul team, sulla squadra, sulla triangolazione, agenzia, cliente, azienda, casa di produzione. Perché è così importante? Perché non sempre ci si riesce? Cosa si perdono, insomma, quei brand che fanno una gara per ogni campagna e quindi non riescono poi a ottenere relazioni di questo tipo? Guarda, la conoscenza reciproca è fondamentale per sapere cosa poter ottenere esattamente dagli altri componenti del team. Quando ci si conosce si creano degli automatismi, si creano delle sinergie, si creano delle componenti particolari che portano a costruire insieme e non essere sempre invece da parti opposte del tavolo. Quello che oggi io sento drammaticamente negativo è la contrapposizione, è la lotta, è la sfiducia, è il fatto di cercare sempre di utilizzare l'altro senza mai diventarne alleato. Invece questa alleanza che in qualche caso si crea, in questo caso si è creata perché lavoriamo con Avas, con Alessandro, con Paolo Tonelli e lavoriamo anche per Racket Bank User da tanto tempo, in particolare con Chiara Longo che è il category manager di questo prodotto, si è creato un bellissimo spirito di corpo che porta ad avere degli obiettivi comuni, a cercare di perseguirli nella maniera migliore e pur nell'ambito del rispetto dei ruoli, quindi anche a volte anche della discussione accesa su quello che è meglio fare, si arriva ad ottenere un risultato comune e quindi questo team secondo me è un buon esempio di collaborazione vista nella maniera giusta e che nel tempo porta risultati che invece la sporadicità, l'episodicità e la voglia di cambiare sempre non potranno mai portare.